In questo video svolgiamo il seguente esercizio che chiede di disegnare il dominio delle due funzioni che vedete. Quindi iniziamo subito dalla funzione numero 1. Abbiamo f di xy definita come la radice quadrata di 1 meno x meno y per la radice quadrata di 1 meno y quadro più il logaritmo del logaritmo di x meno y. Allora, osserviamo subito che devono essere ben definite le funzioni radice quadrata e la funzione logaritmo. Quindi la prima funzione radice quadrata deve essere ben definita. Questo vuol dire che quello che sta sotto la radice deve essere maggiore o uguale di 0. Così come la seconda funzione radice quadrata. Poi il primo logaritmo deve essere ben definito, in sostanza abbiamo il logaritmo di qualcosa e deve essere l'argomento del logaritmo strettamente positivo. E poi infine deve essere il secondo logaritmo ben definito e quindi la x maggiore di 0. Mettendo insieme tutte queste informazioni, cosa troviamo? Diciamo che il dominio della prima radice, che chiamiamo D1, è 1 meno x meno y maggiore o uguale di 0. Il dominio della seconda radice, che chiamerò D2, è 1 meno y quadro maggiore o uguale di 0. Il dominio del primo logaritmo, che chiamerò D3, è logaritmo di x meno y, strettamente più grande di 0. E poi abbiamo D4, il dominio dell'ultimo logaritmo, che è x maggiore di 0. Quindi facendo un po' di calcoli, il primo D1 si trasforma in y minore o uguale di 1 meno x. Il secondo si trasforma in y quadro minore o uguale di 1, ovvero y compreso tra meno 1 e 1. E infine abbiamo qui y minore di logaritmo di x e x maggiore di 0. Allora, il dominio della funzione f di x y, chiamerò dominio di f di x y, che cos'è? È l'insieme dei punti x y dove sono ben definite ognuna di queste funzioni. E quindi è l'intersezione di tutti questi domini. Sarà D1 intersecato D2 intersecato D3 intersecato D4. Andiamocelo a disegnare. Quindi mettiamo qui piano cartesiano. Allora, iniziamo da D1. D1 sono tutte le y che stanno sotto la funzione 1 meno x. Quindi disegniamoci la funzione 1 meno x. È una retta, quindi disegniamo la retta y uguale a 1 meno x. Per x uguale a 0 passa in 1, quindi qui supponiamo che c'è il punto 1 sulle y. E per y uguale a 0 passa in x uguale a 1. E quindi qui diciamo che c'è il punto 1 sulle x. E allora abbiamo la retta che passa per questi due punti. Questa qui è la retta di equazione y uguale a 1 meno x. Poi D2 ci dice, ah innanzitutto y deve essere minore o uguale a 1 meno x. Quindi se abbiamo y uguale a 1 meno x come abbiamo qua, vogliamo il minore o uguale, dove mi devo trovare? Mi devo trovare sotto questa retta. Questo qui è il mio D1, tutto lo semipiano che sta al di sotto di questa retta. Poi abbiamo nel D2 che y deve essere compresa tra meno 1 e 1. Quindi qui abbiamo 1, qui abbiamo meno 1. Diciamo, queste qui sono le rette di equazione y uguale a 1 e y uguale a meno 1. E sappiamo che la y deve essere limitata qui dentro. Quindi per ora il candidato è diciamo quello che sto colorando di giallo per ora. Deve essere, deve stare sotto la retta e al tempo stesso essere compresa tra meno 1 e 1 la y. Poi andiamo con D3, D3y minore di logaritmo di x. Disegniamo la funzione logaritmo di x, la funzione logaritmo di x passa, quindi qui abbiamo l'astrelle x. Qui abbiamo l'astrelle y, va meno infinito quando x uguale a 0, passa in 1, cioè passa quando x uguale a 1 in 0 e poi va più infinito. Quindi voglio la y sotto logaritmo di x, quindi vorrei che la y stessi anche sotto questa funzione. E l'unica parte in cui si incrocia con il dominio in giallo è il triangolino che vi sto per colorare. E osserviamo che effettivamente in questo triangolino viene rispettato anche D4 e x maggiore di 0, perché lo 0 sta qua. E quindi x maggiore di 0 sta di qua e quindi va tutto bene. Dunque il nostro dominio è quello colorato in giallo, il nostro dominio D. Passiamo ora alla funzione numero 2. Abbiamo f di x, y uguale a radice quadrata di x quadro meno y quadro più x meno y. L'unica cosa che deve essere ben definita, diciamo, è l'argomento della funzione radice quadrata e l'argomento deve essere maggiore o uguale di 0. E quindi dobbiamo avere x quadro meno y quadro più x meno y maggiore o uguale di 0. Questo qui lo riconosciamo è una differenza di quadrati, è a al quadrato meno b al quadrato e quindi si può scrivere come a meno b per a più b. E quindi possiamo scrivere questa cosa se soltanto se x meno y per x più y più x meno y a stretta maggiore o uguale di 0. Possiamo mettere in evidenza un x meno y e quello che otteniamo è x meno y che moltiplica x più y più 1 maggiore o uguale di 0. Studiamo prima quando l'equazione, diciamo, questa qui è una disequazione, studiamo prima quando è uguale a 0. Quindi studiamo l'equazione x meno y per x più y più 1 uguale a 0. Questo implica o x uguale a y oppure x più y più 1 uguale a 0, ovvero o, diciamo, y uguale a x oppure y uguale a meno 1 meno x. Andiamo a disegnarci queste due rette, chiamerò, diciamo, retta A e retta B, sul piano cartesiano. Allora, abbiamo la retta A e la retta y uguale a x, quindi la bisettrice del primo e terzo quadrante. Mentre la retta B è la retta che passa quando x uguale a 0 in y uguale a meno 1 e quando y uguale a 0 in x uguale a meno 1. E quindi, diciamo, qui c'è almeno 1 e la retta che... Scusate, non riuscirò a disegnarla. Ok. Ora, quindi, la retta B determinano, diciamo, il luogo degli zeri dove la nostra disequazione è uguale a 0. Noi però vogliamo il maggiore o uguale. Come facciamo? Allora, definiamo la funzione, diciamo, g di x, y, la funzione che era questa qui, quindi x al quadrato meno y al quadrato più x meno y, che poi abbiamo trasformato in questa. Quindi, comunque, chiamiamola x al quadrato meno y al quadrato più x meno y. E sappiamo che le rette che abbiamo disegnato nel piano cartesiano, qui mettiamo questo qui è l'asse delle x e questo qui è l'asse delle y, sono le rette che annullano la funzione g. Quindi, qui su questa retta ho g e la funzione g uguale a 0, così come su questa retta la funzione g uguale a 0. E sappiamo anche che queste rette dividono il piano in quattro regioni, quindi come potete vedere qui, diciamo, 1, 2, 3 e 4, in quattro regioni in cui la funzione g ha segno costante. Quindi, ad esempio, prendiamo la regione numero 1. Nella regione numero 1 c'è il punto 1, 0. g calcolato in 1, 0, quindi g calcolato in 1, 0, quanto vale? Vale 1 al quadrato meno 0 più 1 meno 0, quindi fa 2, che è strettamente maggiore di 0. Quindi, in tutta la regione 1, la funzione g è positiva. Mentre, prendiamo un punto nella regione 2. Nella regione 2 che punto c'è, c'è ad esempio il punto 0, 1. Allora, g di 0, 1, quanto fa? Fa 0 meno 1 al quadrato più 0 meno 1 fa meno 2, che è minore di 0. E quindi, in tutta la regione 2, la funzione g è negativa. Allo stesso modo, si può vedere che in tutta la regione 3 la funzione g è positiva, in tutta la regione 4 la funzione g è negativa. Qual era il nostro dominio? Il dominio della f? Il dominio della f era dove g di x, y fosse maggiore o uguale di 0. E dunque, il dominio della f è la regione 1 più la regione 3. Dunque, adesso colorerò in giallo il dominio della f. E quindi questo qui è il nostro dominio D. Dove sto prendendo anche le rette di equazione y uguale a x e questa qui che era y uguale a meno 1 meno x perché noi nel nostro dominio abbiamo il maggiore o uguale. Quindi va bene anche quando g di x, y è uguale a 0. Abbiamo visto g di x, y uguale a 0 proprio su queste due rette. E con questo possiamo concludere. Grazie a tutti.